salve a tutti siamo a tessalonica io ho preso una stanza di hotel e questa è una città antichissima piena di monumenti dell'antica grecia io mi sono appena svegliato ed è un po tardi da qua si vede la strada principale credo che non dice molto in effetti ma non si può zoomare ma ci sono tutte le scritte in greco che io non capisco c'è starbucks per cui non siamo in italia a fra poco facciamo un giro